La città si risveglia sommersa dai rifiuti, il Comune di Catania fa partire la denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. L'assessore comunale all'ecologia del Comune di Catania Fabio Cantarella non ci sta e per mano della responsabile della direzione comunale Laura Riguccio scrive al Prefetto e al Tribunale. Il caos regnerà ancora per qualche giorno fino a quando l'enorme mole di rifiuti rimasta sulle strade di Catania non verrà definitivamente raccolta dalla nuova ditta, la Dasti, che da oggi per i prossimi tre mesi avrà in appalto il servizio di raccolta differenziata del Comune Etneo. L'azienda della zona industriale di Catania ha assunto a tempo indeterminato anche i 105 lavoratori del vaccino prefettizio che dopo anni di vicissitudini si ritrovano con un lavoro per la vita. Dopo tanti anni di calvario con tanto aiuto che i sindacati ci hanno accompagnato quindi il Comune, la partecipazione del Comune finalmente siamo arrivati ad ottenere un contratto a tempo indeterminato e quindi sono contenta per tutto questo. Solo che per intanto abbiamo le quattro ore che magari si impegnano a darci le ore quelle giuste, le sei ore come ce le hanno tutti gli altri. Noi abbiamo avuto tanta pazienza, ne avremo ancora e penso che tutto si sistemerà. Signora, cosa ha pensato stamattina quando è tornata al lavoro? E niente, che neanche ci credo ancora perché sono passati molti anni quindi sono contenta e basta. Lei nel frattempo che cosa ha fatto? Io ho lottato sempre, non mi sono mai aresa e ci ho creduto. E per un'avvertenza che si conclude un'altra si apre stavolta al Comune di Zafferano Etnea dove cinque lavoratori sono rimasti fuori dal cambio d'appalto. Lei si occupa anche di un'altra avvertenza in questo momento che è quello che riguarda i lavoratori del Comune di Zafferana che sono stati licenziati in queste ore. E ai mesi, infatti mi sto spostando sul Comune di Zafferana, lì una gara settennale, il capitolato di appalto lascia fuori cinque lavoratori. Cinque parti di famiglia che dopo tre o quattro anni che hanno prestato servizio a fuori dell'amministrazione, a fuori della città, oggi si trovano senza un posto di lavoro.